Il nostro Girardengo svizzero con la maglia napoletana azzurra in onore di Fabio. Da dove arrivi, campione? Quanti chilometri hai fatto oggi? Solo 30 chilometri per riscaldarsi. Signori, quest'uomo ha anche un problema all'anca, ma lui non demorde. E anche al cuore, quello perché è sempre innamorato dell'uomo, delle persone. È arrivato il nostro Girardengo, parcheggia la sua fuoriserie ed è pronto per un aperitivo. Viva lo sport! Cresciuti troppo in me.